Passiamo all'interrogazione 3.2886 dei deputati Fedriga ed altri concernenti iniziative per la definizione di una disciplina transitoria dei voucher acquistati antecedentemente all'abrogazione della normativa di riferimento, nonché per garantire la regolamentazione del lavoro flessibile e saltuario per settori come il commercio, il comparto turistico e l'agricoltura. L'onorevole Simonetti ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è confirmatario per un minuto. Grazie Presidente. Il Governo vede la paura di affrontare il giudizio del popolo, ultimamente avete molta paura di affrontare il giudizio del popolo dopo la battosta del referendum costituzionale. Vi ha portati a essere un Governo di fatto tappezzeria della CGL quando avete varato il decreto che abrogava i voucher, proprio per non effettuare questo nuovo referendum. I voucher erano uno strumento contrattuale indispensabile per il settore turistico, alberghiero, per quello ricettivo, per l'agricoltura, per le famiglie, per tutte quelle famiglie che devono accudire i propri anziani, i propri bimbi, i propri malati. C'è stato un abuso dei voucher derivante dalle vostre leggi che ne hanno ampliato le fattispecie, però non erano da cancellare, erano da modificare. Poi l'avete cancellato con un metodo abominevole. Di fatto non c'è più una regola, non si sa più come attivarli, non si sa più se ci sono le sanzioni, non si sa più le tempistiche di utilizzo. E non mi venga a dire che è sufficiente il comunicato stampa che il suo Ministero ha fatto, quello non è una legge. Quindi c'è una deregulation che porterà al sommerso. Quindi vogliamo capire come eliminerà il sommerso e come le famiglie e le imprese potranno utilizzare dei contratti normali per il lavoro occasionale. Grazie Onorevole Simonetti. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti ha facoltà di rispondere per tre minuti. Grazie Presidente, grazie Onorevole. Il Decreto Legge 25 del 2017 adottato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 marzo dispone all'abrogazione degli articoli 48, 49 e 51 del Decreto Legislativo 81 del 2015 relative alla disciplina del lavoro accessorio. Il decreto prevede inoltre che i buoni richiesti per prestazione di lavoro accessorio, richiesti prima del 17 marzo, dati di entrati in vigore del decreto, possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. Desidero rassicurare gli onorevoli interroganti circa il fatto che non si è determinata a seguito del decreto legge una situazione che possa portare all'attivazione di ticket incontrollati e alla legalizzazione del sommerso. A questo proposito, infatti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha già precisato lunedì scorso che l'utilizzo dei buoni per prestazione di lavoro accessorio in tale periodo transitorio dovrà essere effettuato nel rispetto delle norme previgenti. Per quanto concerne il problema del portale dell'Inps, segnalato dagli onorevoli interroganti, l'Inps ha fatto sapere che la procedura informatica di gestione dei voucher è stata bloccata per alcune ore per consentire l'aggiornamento tecnico alle nuove disposizioni normative. L'Inps ha inoltre reso noto che già nella serata dello scorso lunedì sono state riattivate le funzioni procedurali per l'attivazione e la riscossione dei voucher emessi prima del 17 marzo e che risultano attualmente funzionanti. In risposta, infine, all'ultimo quesito contenuto nell'interrogazione, colgo l'occasione per confermare l'intenzione del Governo di attivare un confronto con le parti sociali al fine di individuare tempestivamente nuove forme di regolamentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e occasionale che potranno portare a soluzioni diversificate per famiglie e imprese in ragione della loro evidente diversa natura. Grazie. Grazie a lei a facoltà di replicare. Il Ministro ha risposto come avevo chiesto di non rispondere, cioè leggendoci la favola di Hansel e Gretel. Sostanzialmente lei ci dice che una nota del Ministero può sostituire una legge, voi con un decreto legge che ha valore gerarchico di secondo grado perché vorrei spiegare al Governo che ci sono le leggi costituzionali, le leggi decreti legge, decreti legislativi, poi le leggi regionali, poi ci sono i regolamenti governativi, infine le circolari. Ma lei non ha neanche fatto una circolare, non ha neanche fatto un'interpretazione, non ha fatto un'ordinanza, ha fatto un comunicato stampa. Quindi di fatto i consulenti del lavoro che hanno evidenziato questa problematica e tutti l'hanno vista, porterà alla legalizzazione del lavoro nero perché di fatto quando ci sarà l'ispettore del lavoro che andrà a sanzionare, non essendoci più la norma che dà la possibilità di emettere la sanzione da 400-2.400 euro come era prima, si vedrà di fatto impotente di fronte al lavoro nero. Poi rispetto alle vostre promesse, guardi, su come utilizzare nuove forme contrattuali, noi siamo veramente allibiti perché di fronte all'incapacità del Governo di realizzare, per esempio l'APE SOCIA, siamo tutti in attesa di decreti ministeriali attuativi e questi non arrivano, di fronte al bonus bebè che non arriva, di fronte a tutte le norme sul contrasto della povertà che non arriva, abbiamo la grande preoccupazione che voi utilizzare tutte le risorse di queste forme di cui vi ho detto e non andrete a normare questa forma contrattuale perché dovete essere succubi dell'Europa che vi chiede 3,4 miliardi e voi utilizzerete i soldi dell'APE SOCIA, del bonus bebè, del contrasto della povertà per andare a coprire quella manovra che vi chiede l'Europa per le vostre finanziarie elettorali che però vi hanno portato al tracollo elettorale. Grazie.